Si è tenuto in comune a Pordenone un primo incontro tecnico sulla progettazione della piazza di Borgomeduna, storico varco d'accesso alla città. Sono state presentate alcune ipotesi per la sua realizzazione, che si completeranno con i rilevi tecnici attualmente in corso. Questi stabiliranno i costi della piazza, dei parcheggi, della pista ciclabile, delle aree verdi, dei materiali che saranno utilizzati. Questa notizia rappresenta una svolta per la storia della città, una svolta perché della piazza di Borgomeduna e Pordenone si lo sanno, si parla da decenni. Tutte le amministrazioni che si sono succedute l'hanno promessa, però questa promessa è sempre stata tradita e mai mantenuta. Io avevo preso un impegno preciso con i residenti di recuperare il finanziamento, cosa che ho fatto, e di realizzare uno spazio che fosse godibile, bello, dal punto di vista estetico, funzionale, abbattendo la schiera di case disabitate che abbruttiscono la zona della rotonda di Borgomeduna. Una piazza nuova significa anche dare un nuovo volto all'ingresso della città. Accanto a questo anche la continuazione della pista ciclabile a sua via Udine, una delle zone più trafficate di Pordenone, quindi mettere in sicurezza pedoni e ciclisti. Proprio oggi si è tenuto poi un tavolo tecnico per definire alcuni aspetti essenziali del progetto, progetto che verrà presentato tra qualche settimana alla popolazione per condividerlo. La nuova piazza di Borgomeduna è un'occasione per rigenerare anche il quartiere di Borgomeduna, quindi uno spazio nuovo, rinnovato, con dei servizi fondamentali come i parcheggi, come la possibilità di avere uno spazio di incontro dove poter accedere alla città da un lato, ma anche a un quartiere molto importante della città stessa dall'altro. È un modo per avviare un recupero anche di quella parte di quartiere che per anni è rimasta ferma, bloccata, ingessata. Infatti già le iniziative dei privati alla notizia di questa riqualificazione e rigenerazione urbana si sono già mossi attraverso delle richieste di variante a piano di recupero. Lo spazio verrà trasformato appunto in uno spazio necessario per dare vita anche al commercio di vicinato, già esistente anche per nuovi insediamenti, per la residenza, per tutto quello che è la vita di un quartiere, ma allo stesso tempo anche una porta d'ingresso della città, dove il traffico dovrà essere più fluido di quello attuale, dove sarà possibile comunque scambiare il proprio mezzo attraverso un parcheggio attrezzato o con l'autobus o con il monopattino, la bicicletta o una passeggiata molto bella attraverso il nostro noncello, attraverso l'ingresso verso il centro città, attraverso il parco del noncello appunto. Il verde nella rigenerazione urbana costituisce uno sicuramente dei pilastri, in questo caso ci sarà del verde e si parte con un progetto in parallelo, per cui come ho più volte sostenuto, pari dignità del progetto verde rispetto a qualunque altra opera. L'importanza di questo progetto è anche la connessione con il resto del verde e della città. Grazie.